Buona giornata amici e ben felice di riprendere la nostra trasmissione dopo le vacanze di Pasqua. Oggi è 2 aprile 2024 e siamo come giornata martedì, la settimana è iniziata perché poi lunedì era il giorno dell'angelo. Bene, allora cominciamo subito il nostro Trantan quotidiano partendo dal santo del giorno. E oggi vediamo che si festeggia San Francesco di Paola, un santo che visse nel 1400, nacque nel 1416 ed è molto noto perché poi fu un seguace di San Francesco d'Assesi. San Francesco di Paola ha anche una chiesa a Fano, ormai in disuso, anzi era un convento nei pressi della stazione e ormai è passato perché è stata trasformata ad altra funzione. Bene, ciò detto passiamo alle previsioni del tempo e vediamo che tempo fa oggi. Vediamo la grafica E oggi sarà una giornata stabile e ampiamente soleggiata salvo occasionali addensamenti sui rilievi. Le temperature massime si aggireranno tra i 18 e i 21 gradi, ormai si è alzata molto anche la temperatura minima. I venti sulle coste spireranno da ovest su dovest, lo stesso nell'entroterra. Le temperature sono però in calo, il mare è mosso e insomma iniziamo con questa bella giornata dopo la piccola pioggia che un po' ha rovinato il turismo di Pasqua. Lo vedremo dopo sui giornali. Comunque il tempo si sta rasserenando e con questa certezza iniziamo la nostra rassegna stampa. E vediamo oggi sulla pagina del Corriere Adriatico quello che è accaduto a Fano. Ebbene, a Fano è successa una cosa particolare. Allora, siamo nei pressi della Basilica di San Paterniano, una delle basiliche più frequentate della città di Fano. San Paterniano è il protettore di Fano. Ebbene, succede che San Paterniano è una chiesa che si trova vicino ad una situazione dove si radunano molti giovani e qualche volta si fa del baccano perché insomma anche nei giorni di festa si fa musica. Ma questa musica all'altro giorno era una musica ad alto volume e questo ha interferito con le funzioni religiose che si facevano nella chiesa. Allora, vediamo il titolo con il quale appare il Corriere Adriatico. DJ 7 durante la Messa di Pasqua è il priore. Qui fuori c'è un baccano, un baccano che rende impossibile seguire con il dovuto raccoglimento la funzione religiosa. La difficile convivenza della Basilica di San Paterniano con il dirimpettaio cocktail bar-officina. Ebbene, qui c'era un DJ che a un certo punto nel bel mezzo della Messa ha sparato la musica ad un volume un pochino eccessivo il che ha disturbato appunto la funzione. E qui c'è tutta la descrizione di questa incompatibilità. Non è la prima volta che accade e quindi anche padre Giuliano Viabile, che è il priore del convento di San Paterniano, insomma, ha protestato, ha detto la sua. Insomma, le due cose dovrebbero convivere in maniera equilibrata. Vediamo ora le altre notizie. Sui giornali c'è ancora il sequel dell'episodio di cronaca violento che è accaduto durante le festività pasquali in pieno centro storico a Fano. Un'aggressione tra due band rivali, egiziane e marocchine, con una coltellata in pieno centro. Episodio subito risolto grazie alle telecamere, ha evidenziato il sindaco Massimo Seri, rispondendo anche alle prese di posizione della opposizione, che subito hanno rilevato come Fano sia una città insicura, come non ci siano giusti provvedimenti affinché questi episodi non si verificano. Ebbene, innanzitutto, ha detto il sindaco Massimo Seri, vorrei evidenziare che grazie a tutto un sistema di videosorveglianza che è stato installato sia in centro storico che in periferia, questo caso è stato prontamente risolto. Infatti è stato individuato l'aggressore, sono stati individuati anche i complici, e quindi anche la dinamica di quanto è avvenuto è stata accertata. Cinque giorni di prognosi per quanto riguarda la vittima di questa nuova aggressione. Il sindaco risponde anche al candidato sindaco, Luca Serfilippi, che per primo ha attaccato la Giunta, subito dopo quanto è avvenuto, appunto lamentando un sistema che dovrebbe far acqua da tutte le parti. In realtà questo è stato un episodio che è stato risolto prontamente dalle forze dell'ordine. Vorrei rimarcare anche un comportamento, cioè l'amministrazione comunale ha lamentato perché le immagini di quanto è accaduto sono state diffuse, dovrebbero essere state secretate. Ebbene, non far vedere alla città quello che accade, senza suscitare eccessivi allarmismi, credo che sia un diritto dell'informazione papale-papale. E quindi quello di impedire che l'informazione circoli sa un po' di un comportamento che oggigiorno non è più accettabile. L'informazione deve circolare liberamente, le indagini devono eseguire il loro corso. Comunque se un'immagine viene rivelata, questo non è che ostacola le immagini, per cui insomma non si dovrebbe recriminare in modo eccessivo per quanto accaduto. Vediamo ora, dopo aver parlato di questo episodio violento, parliamo di un episodio di pace. Perché il Corriere Adriatico evidenzia la consegna del poster per la pace agli studenti delle scuole medie della città. Pace, osate sognare, questo era il tema del concorso di quest'anno. Ecco gli studenti vincitori, è l'articolo che pubblica il Corriere Adriatico, eccolo qua a fondo pagina, evidenzia i nomi dei ragazzi che hanno vinto il concorso, che fanno parte dell'Istituto Nuti, Gandiglio e Poder... Gandiglio e... dunque diamo un attimo, Nuti, Gandiglio e poi il Padalino, mi veniva in mente Poderino, in realtà è Padalino, che sono appunto le tre scuole medie della città. Giriamo pagina, giriamo pagina e parliamo di turismo, un turismo che è andato così così in queste festività di Pasqua, ma perché? Per due questioni. Innanzitutto il tempo, il tempo incerto. Oggi basta una telefonata, basta accendere la televisione per vedere che tempo fa in quella località magari in cui si è previsto di fare una escursione e se il tempo è incerto probabilmente si cambia subito, si va da un'altra parte. Questo un po' ha limitato le presenze turistiche nel nostro territorio durante il weekend pasquale. Turismo però salvo grazie allo sport. Lo sport ancora una volta è venuto in soccorso delle presenze turistiche, in modo particolare il torneo di volley organizzato tra i ragazzini dalla Virtus, che ha visto molte molte presenze, così come è stato fatto nel mese di dicembre nei pressi del dopo Natale. Insomma, quindi ancora il turismo un salvagente. E in questo caso proprio il presidente degli albergatori, Luciano Cecchini, spinge l'amministrazione comunale affinché si realizzi quel palazzetto dello sport che possa ospitare eventi importanti che possano attirare a Fano, anche in bassa stagione, perché questo è il periodo più critico per fomentare le presenze negli alberghi, ma poi sono presenze che si ripercuotono positivamente in tutta la città, perché poi la gente frequenta i ristoranti, fa spese nei negozi, insomma partecipa alla vita economica della città stessa. Peccato, peccato l'anfiteatro abbattuto, dice Luciano Cecchini, perché l'anfiteatro Rastat era ancora una struttura che svolgeva benissimo la sua funzione e era anche esteticamente bella. Le linee che aveva a suo tempo progettato l'architetto o la medica erano ancora valide oggi, peccato il suo abbattimento. E di questa idea sono consapevoli anche altri cittadini che sono lamentati per questa situazione. Comunque vedremo alla fine il lavoro che verrà realizzato ed è bene esprimere un giudizio negativo o positivo soltanto alla fine dei lavori, insomma ancora è prematuro. E allora passiamo alle località dell'entroterra. Passiamo a San Lorenzo in campo, vediamo qui l'articolo di apertura sulla pagina della Val Cesano, stop al dissesto idrogeologico, conclusi i lavori per un milione di euro, opere finanziate dal PNRR a Mirabello, San Cristoforo, San Vito e Montalfoglio. Ebbene sono quasi conclusi i lavori di messa in sicurezza del territorio laurentino per circa un milione di euro, gli interventi edili e stradali relativi alle frane e al dissesto idrogeologico sono stati finanziati dal Ministero dell'Interno. Insomma ormai il territorio ha ripreso il suo aspetto ante alluvione, per cui insomma le situazioni sono state rissanate e rimesse a posto. Giriamo ancora la pagina, siamo a Senigallia. A Senigallia già si lavora per programmare la prossima stagione turistica, come è bene fare perché per il 10 maggio tutta la spiaggia di Velluto deve essere resa bella come è nel pieno dell'estate. La spiaggia di Velluto di Senigallia è la maggiore attrattiva turistica della località e quindi ora c'è una corsa contro il tempo. Ed è l'assessora all'ambiente campagnolo che dice tutto deve essere pronto per quella data, il 10 maggio, e c'è il nodo del salvataggio che deve essere ancora annodato, diciamo così, deve essere ancora risolto, messo a disposizione dei bagnanti per la loro sicurezza. E vediamo anche la pagina di Pesaro dove l'apertura è dedicata, eccola qua, alla Cittadella dello Sport di Torraccia. Eccola qua il titolo. Cittadella dello Sport consegnato il cantiere. Ora avranno 350 giorni gli operai per finirlo. A Torraccia anche altri impianti a supporto della pista ciclorotellistica. Prevista pure una palestra attrezzata, dotata di uffici e una infermeria. Insomma, una vera e propria cittadella dello sport. Un anno di lavori coperti con i fondi del PNRR nella zona compresa tra il Rossini Center e la Vitifrigo Arena, la grande struttura che ospita gli eventi più importanti della città di Fano. Ebbene, il cantiere avrà molte attrezzature, molte infrastrutture per realizzare tutto questo complesso di edifici a servizio dello sport. A supporto della pista ciclorotellistica, l'intervento porterà alla realizzazione di un percorso separato e coperto con i fondi del PNRR. Ci sarà una palestra con gli spogliatoi, un'infermeria, uffici, impianto di illuminazione, attrezzature calisteniche. Attrezzature calisteniche, poi andrò a vedere che cosa significa questa parola. Parete da arrampicata, attività funzionali sviluppate sulla verticalità del valore di 1.650.000 euro. E poi parliamo di amianto, di questo elemento nocivo alla salute umana perché sono stati risolti i casi in almeno tre quartieri. Questi tre quartieri sono Monte Ciccardo, Pantano e Muraglia, casi irrisolti di amianto in questo caso perché adesso il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Daniele Malandrino, dopo essere rimasto soddisfatto della risposta ricevuta dall'amministrazione comunale, aveva presentato una sua interrogazione, vuole ribattere affinché questo problema venga risolto anche in questi tre quartieri che ancora hanno questo elemento nocivo alla salute. Ed ora parliamo anche di quello che è accaduto a Pesaro durante le festività pasquali. La movida sold out per Pasqua, solo il maltempo, ferma la festa. Anche qui, come a Fano, insomma, il tempo incerto ha limitato la festa. E qui vediamo veramente in questa fotografia la ressa di gente che si è verificata nella strada tra i due porti nella vela. Infatti qui la stagione ha iniziato alla grande con un non stop nel tardo pomeriggio fino a sera inoltrata per un evento che ha richiamato tante tante persone. Insomma, non c'era vento ieri in prossimità del mare, stamattina invece il vento è piuttosto forte e quindi la gente ha affollato questa zona appetiticamente turistica perché poi è bello passeggiare nei pressi del mare in un molo gremito di gente. E qua c'è un po' tutta la descrizione di questa giornata di vacanza. E la casa delle vacanze purtroppo non esisteva per una donna che aveva prenotato la sua vacanza desiderandola, pensando ad essa per tutto l'inverno. E poi alla fine ha capito che pur avendo pagato i soldi per l'affitto di questa casa, questa casa non c'era ed è stata truffata da una donna che è finita a processo. Sembra che non sia la prima truffa che questa donna abbia commesso, però il giudice l'ha assolta per insufficienza di prove. Insomma, è stata anche scovata dalle iene. Però questa donna che ha così messo in vendita sempre sul web prodotti che poi magari non c'erano, che non venivano consegnati oppure case che venivano proposte per l'affitto e non c'erano, non esistevano, però lei intascava i soldi. Comunque per una questione così burocratica la donna non è stata condannata. Giriamo ancora la pagina e parliamo di questo problema di solidarietà. Autismo, pacchetto di fondi per l'ATS1, monitoriamo i servizi e gli interventi. L'assessore Pandolfi ha incontrato i rappresentanti del welfare di comunità per fare il punto sui progetti. Ebbene, a questo punto un totale di 597.839 euro di importanti risorse stantiate dal governo sono state utilizzate per offrire un servizio in più alle famiglie. A Urbino. A Urbino vediamo che si parla di politica. Sono impegnato nelle elezioni, lascio il consiglio studentesco. A parlare così è Giovanni Alvarez, 27 anni, che rivendica i risultati conseguiti negli ultimi 15 mesi. Edi Montefelcino, componente della lista Universo Studenti, si è dimesso da presidente del Consiglio degli Studenti della Università per affrontare questo suo nuovo percorso di carattere politico. Ed ora passiamo al resto del Carlino, dove l'apertura è dedicata a Maria Flora Gianmarioli, presidente dell'ente carnevalesca, che questa mattina si dimetterà, ha annunciato una conferenza stampa per intraprendere un suo nuovo percorso di carattere politico. Così come Stefano Mirisoli, candidato della Lega, Maria Flora invece appartenrebbe alla lista di fratelli d'Italia. E poi ancora si parla dell'accoltellamento in Piazza Costa sul resto del Carlino. Denunciato e ancora libero l'aggressore, si tratta di un 22enne egiziano che sabato ha ferito un 26enne tunisino. Cinque giorni di prognosi ha riportato, insomma era una ferita leggera quella che è accaduto, ma il fatto è grave di per sé, perché insomma usare il coltello certo non è una situazione tranquilla, specialmente per quanto riguarda le motivazioni che hanno poi suggerito questo atteggiamento. E ancora allarmati dal video, più che dalla sicurezza, è il segretario della Lega, Alessandro Brandoni, che evidenzia come l'amministrazione comunale si sia preoccupata più della diffusione del video, più che della situazione dell'ordine pubblico, così almeno afferma Brandoni. Commissione parlamentare per il biodigestore a terre roveresche, la richiesta del Comitato a tutela del territorio, che sulla scia della vicenda di riceci, dice occorre fare luce su più aspetti. Ebbè, tutta questa vicenda che si trascina ormai da mesi, direi quasi da anni, sulla vicenda di Aurora, sui suoi addentellati per quello che è accaduto alla tutela del territorio, ci sono ancora delle proteste, delle recriminazioni. Sul caso risultano ancora pendenti due ricorsi al Consiglio di Stato e ancora si deve far luce sulle esatte responsabilità delle componenti che hanno così preso le decisioni per l'istituzione di un biodigestore in quel di Barchi, in quel territorio insomma che è incontaminato. E poi ancora vediamo Urbino. Urbino commemora due persone, due ragazzi molto noti a Fano. Si tratta Dini e Salvalai, a cui è intestata la vecchia piscina che sorge a Sant'Orso. Erano due partigiani, uno aveva 17, l'altro aveva 22 anni. ebbene nel 44 dopo la loro cattura furono fucilati in una zona di campagna di Calala, di una zona di campagna a Massa Lombarda e proprio ieri infatti ricorrevano gli 80 anni dalla morte di questi due ragazzi. Catturati dieci giorni prima, era quella volta un periodo ancora molto, molto buio, per quanto riguarda l'occupazione nazifascista, furono stati catturati nella campagna di Calalagia a 10 chilometri da Urbino dopo un conflitto a fuoco durato quattro ore contro i nazifascisti. I due ragazzi si erano arresi soltanto perché avevano finito le munizioni. Purtroppo furono uccisi barbaramente fucilati nonostante la loro giovane età. Sulle rapine voglio vederci chiaro. Ebbene, il sindaco di Fermignano Feduzzi si è rivolto al prefetto Emanuela Saveria Greco per cercare di spingere le istituzioni di ordine pubblico di capire perché il suo comune è oggetto di particolari imprese da parte della malavita. Per il primo cittadino ci sono troppe coincidenze. perché avvengono proprio nel nostro comune afferma Emanuele Feduzzi il quale ha chiesto appunto un incontro con il prefetto per vedere un attimo com'è la situazione e ottenere delle garanzie. La presenza dell'ordine pubblico secondo il sindaco è insufficiente. Ci sono soltanto sei militi dei carabinieri. Insomma il comune di Fermignano è un comune vivo appetibile per la malavita e quindi deve essere adeguatamente protetto. E Ilari Blasi forse qualcuno non lo sa ha degli agganci molto molto stretti con il nostro territorio. Ebbene ha passato la sua fanciullezza nei pressi di frontone e le festività di Pasqua è tornata a passarle con il suo compagno proprio in questa località. La popolare conduttrice televisiva ha passato la Pasqua come sempre cena al ristorante selfie con avventori personale e poi delle passeggiate Ilari Blasi a frontone. Certo che la presenza di questa conduttrice televisiva ha sollevato parecchie curiosità. Vediamo anche la pagina di Pesaro sul resto del Carlino dove si parla dove si fa un consuntivo delle presenze turistiche di Pasqua alberghi e il ponte di Pasqua una metà sono rimasti chiusi gli altri hanno fatto il pieno col turismo sportivo. Vedete anche Pesaro fa molto affidamento sul turismo sportivo perché chi organizza delle gare dei tornei di carattere nazionale attira le squadre attira gli atleti ci sono gli accompagnatori probabilmente anche parenti degli atleti i quali soggiornano negli alberghi e vivono e conoscono le città che appunto frequentano e a Pesaro impazzano i gruppi in questo momento arrivano solo i pullman la guida la guida turistica Luigi Fazzi dice purtroppo non è così facile poter entrare nei luoghi pregiati Villa Caprile è soggetta al permesso della scuola Villa Imperiale è attualmente chiusa peccato peccato perché sono due attrattive molto molto importanti per la città di Pesaro ebbene siamo in conclusione voglio concludere con questa intervista che viene rilasciata all'ex sindaco di Pesaro Riano Giovanelli che esprime il suo giudizio sull'operato del sindaco Ricci ebbene lascio a voi il piacere di leggerla perché insomma non è tutto miele quello che dice Giovanelli vedete poi ognuno di voi farà il vostro giudizio e con questo terminiamo la nostra rassegna stampa dandomi come sempre appuntamento alle 7 di domani mattina grazie per l'ascolto a risentirci Giovanelli 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 Giovanelli